Le idee ci sono, i programmi pure, serve però il consenso affinché l'Europa non resti una chimera. E per far breccia sugli elettori di Trapani, Valentina Falletta e Fabrizio Micari hanno fatto tappa nella zona del centro storico. I candidati della lista Stati Uniti d'Europa hanno tenuto un incontro questa mattina nella saletta polivalente Arche di Piazza Sant'Agostino. Noi agli elettori chiediamo un voto che sia un voto che guardi al futuro, che è in grado di dettare un tempo nuovo all'Europa, che è l'unico tempo in cui può andare, che è quello del futuro. Vedete nel nostro simbolo non trovate il nome di questo, di quel leader. Da noi non c'è nessuna conta interna di leadership all'interno del partito. C'è un'idea chiara, giusta, necessaria oggi più che mai che quella degli Stati Uniti d'Europa. Quindi chiediamo un voto per il futuro e per gli Stati Uniti d'Europa. Quali sono le priorità da portare in Europa? Noi in Europa vogliamo portare un programma che sia effettivamente centrato sull'Europa. L'Europa deve tornare ad essere protagonista nello scenario geopolitico mondiale, ma noi vogliamo anche portare le istanze della Sicilia. Quindi è chiaro che bisognerà prendere quanto di positivo c'è già e migliorare quanto deve essere migliorato su delle istanze tipicamente siciliane. Penso alla pesca, penso all'agricoltura, penso alla competitività industriale, penso soprattutto ai giovani. Penso alla pesca, penso all'agricoltura, penso all'agricoltura, penso all'agricoltura, penso all'agricoltura, penso anche attenzione subito.